...intanto abbattono le borse europee in profondo osso. E l'ABC continua da più. ...di stato compresi BTP e bond. Secondo gli analisti, un aumento dell'acquisto di bond da parte dell'Istituto di FED. ...per mantenere la stabilità. Ricorso di Vincenzo De Luca contro la sospensione della carica di governatore campano neoeletto decisa dal premio a Renzi per effetto della legge Severino. ...proteste dei cinque strumenti fuori dalla sede del concorso. ...l'ex sindaco di Salerno è stato congredito un anno per l'uso d'ufficio. ...il rappresidente del concorso della Saracinesca... ...davanti al GIP di avere comprato cinque partite dell'ultimo... ...Pinca... ...per evitare la retrocessione. ...un e una delle gare... ...e' un'azienda fondamentale... ...e' un'azienda...